Ehi la ciurma, io sono Mazzates e ben ritrovati qui su Expeditions Rome In deciso su cosa fare direi proviamo a fare... ah no però abbiamo bisogno di recuperare un po' di manpower effettivamente dopo l'attacco Perché andiamo a prendere le altre robine con la... con la legione e poi vediamo Sentry Stocked Ok Ah Ah ci ha dato delle reazioni Ah Buono, ok Vai Noi entriamo qua perché mi sa che dobbiamo recuperare dell'acqua e delle cose Cioè adesso probabilmente ci ridai pila a sto punto Credo No? 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 Siamo riempiti di acqua, ok ma i pila dobbiamo andare qua tipo per recuperarli Cos'è? Dove ne abbiamo perso degli schiavi? Ah forse per costruire le robe Ok Oh no, dobbiamo spendere delle risorse e dei denari per rivelerle di nuovo Ah Ah ok, per si mette un legionario e te li rifà gratuitamente Ok Quindi abbiamo tre Ok Ma anche i miei Pippottini adesso sono posto come Ah io ho tutto Lui non ha niente Lui ha le bende Non ha niente Ma oggetti equipaggiabili ne abbiamo per caso Tacticals Ah abbiamo dell'acqua Vediamola a qualcuno l'acqua allora Tipo Boh Vabbè No a lui diamo dell'acqua dai Eeeh ma queste oggetti possiamo ottenerli da qualche parte No prima abbiamo il fabbro, non abbiamo No mi sa che Vabbè però almeno abbiamo Abbiamo ancora un free replenish se non sbaglio Dobbiamo riassegnarlo tizio però per riportare a tre il free replenish Sì Allora rimettiamolo quindi il tizio Ecco questo qua è il top Buono Eeeh Parrax mi sa che non ci serve in realtà perché abbiamo già tutti Qua Se non sbaglio abbiamo Ne abbiamo sei È giusto Vabbè a sei basta però Eeeh Credo Parti tre Ah abbiamo spazio per altri due in realtà adesso Ma non Non voglio Ah tra l'altro questi qua sono i comandanti della legge Victrix Per quello che possiamo scegliere solo tra quattro Quando torno devo vedere se per caso ce n'è di altri più Più powerful di quelli che gli abbiamo messo prima O se Eeeh Prenderne di nuovi insomma Quindi buono in pratica Possiamo ripristinare cose se spendiamo delle risorse Ma se mettiamo il tizio ce lo fa gratis Per cui visto che tizi ne abbiamo in abbondanza Conviene lasciarlo là fare la roba gratis Quarry Ci mettono cinque ore Quattro ore Tre ore Due ore Un'ora Bom Tra l'altro loro come sono messi come Forza E ne hanno recuperati un po' ma ancora Sono sotto Eeeh Quarry Farm Ah abbiamo bisogno di schiavi per sta roba qua Ecco perché li stavamo consumando No forse per la quarry no Per la farm probabilmente si Quindi dobbiamo comprarne Dobbiamo andare al mercante e prenderne Prima probabilmente li mettono là a lavorare Però per la quarry mi sa che non ne ha presi Per prima erano sette E ne abbiamo ancora sette La quarry ci serve poi per il fabbro livello 1 Se non erro Allora andiamo qua Poi li vediamo i Outpost management Si Allora questo ci chiede una fattoria E può essere buona perché ce l'abbiamo la fattoria Questa ci rinforza Quando ci attaccano Questa ci chiede Ah iron mine Non la quarry E tannery Eeeh Dov'è la Quarry C'è da qualche parte la quarry B No cosa ci dà la quarry Cosa ci ha dato la quarry Iron o lumber No abbiamo farm Iron Lumber E tanneri E la quarry Ci darà delle robe Forse qua di qualche tipo Allora vorrei degli schiavi Se possibile Per razioni Ti do Va bene 225 razioni Per 15 schiavi Va benissimo Tutto le razioni le abbiamo prese sotto al Al tipello Eeeh E quanti ce ne sono tantissimi Tra l'altro 11 No quanti ce ne chiedeva Troppi tipo Assolutamente Troppi Eh stiamo cercando di capire un po' Siamo tipo l'episodio 40 Stiamo cercando di capire un po' come funziona Allora Mandiamo il tizio E ci ha consumato Eeeh Moment Speed Ah ok Ci muovevamo più in fretta Ah Guardale Ok Ok Abbiamo le strade Che sono più veloci A hunting grounds Possiamo rifarlo quindi No non volevo No volevo Torna O forse una volta che ho fatto È fatto Quanto ci va qua per la farm Ok Fatto Farm di livello 1 Cioè no Di livello 1 Abbiamo una farm Adesso quindi possiamo fare il Eeeh Tizio Allora Aspetta No Intiriamo qua Aspettiamo che ritornino indietro i tizi dalla farm E qua possiamo andare a costruire Con l'outpost management Il Ma tra l'altro dobbiamo entrare per forza No Forse Forse la gestione dell'out No Non lo so Non so dire Non so dire Adesso Dopo controlliamo se si può fare outpost management Anche da fuori Allora Outpost management Upgrade Possiamo fare Il bagno Sì Ristrano la farm Può servirci Poi per qualcosa di più avanti Per stockpile Eh Forse bisogna tenercela per stockpile Perché il bagno Fa semplicemente Un boost Della Approve Di quelli che sono Un po' arrabbiati E poi questo è successivo a questo La stockpile 1 Per cui direi Facciamo prima stockpile 1 E poi ci pensiamo Sì Direi di sì Allora usciamo Ma il tizio è per caso di nuovo schiavo Non credo Credo che Se ce li ha Avrà un prezzo Fuori di testa No infatti Non è più Va bene Ricordiamoci quindi Che ci serve Comprarne Costantemente Se vogliamo le robe E le robe ci servono Perché dobbiamo fare L'upgrade Dell'outpost Il più possibile Quindi Allora Aspettiamo che tornino indietro No non volevo muoverli là In realtà Stati qua Ok E qua Ah ci dà degli schiavi E' una missione ripetibile Ci costa 150 denari Ma ci dà un sacco di schiavi Aia Qualcosa che ride Ci sono delle Delle volpi Ah no Si è fatto male Allora No No Aspetta un attimo Power management Abbiamo un tizio da curare Vai Start treatment Ah abbiamo coperto Ok Quindi abbiamo 27 Adesso buono E Hunting ground Però Non Non è più Fattibile Forse tra un po' Sarà di nuovo Risolvibile Quindi ora Direi che dobbiamo andare Qua a prenderlo Questo è un iron miner Tannery E anche qua Qua eric Però ci serve Solo per le strade Qua cosa che c'è Ok Della roba Però Qua perché Non possiamo Attaccare Questo Eh Non è pacificato Ma perché Non ce lo fa pacificare Non c'è un L'osservatore L'ha messa Che ci eravamo Già andati Forse Dovevamo Prendere Quell'altra Boh Andiamo a vedere Discovered treasure Ah ok Adesso possiamo Andare su Troas Ok Prima Avevamo Usato Quello Sero Autore Probabilmente C'è un tesoro Anche qua Andiamo a prendere Quello Tanto che La legione Si muove Ha recuperato Un po' di gente La legione Prima era 894 Adesso è a 3000 Tipo Ah Tecola Abbiamo Delle Gli schematics Qua Da Usare Questo impara Bravo C'è un po' di gente Ok, lui ha un elmo migliore Vai Che è identico, tra l'altro Non è che per caso quell'arco No, fa più schifo Ah, questo possiamo dargli Questo può, dai Ah, ok, questo possiamo dargli Questo è il metodo Che carino Ah, no, abbiamo controllato i capitani Della roba Ah, no, si è no Resolvato Ok, allora Ah, peri, sono tantissimi Proverai ad andare di questo Anche se abbiamo il 13% Dobbiamo aumentare un po' il morale Della legione È quello che ci dà Più possibilità di tutto Per ora Per cui Andiamo con lui Questa, extended line Archeus, Latius, extendite Ok, lo scudo è entrato Ok, lo scudo è entrato Fallito in tutti e due È buono Ci serve all'arcere in questo caso Non il triario Dobbiamo far riscendere però sotto di tantissimo Perché si Scappino per sempre 22 ne vengono persi Bene, sono entrato in tutti e due Ottimo Uno è entrato Ottimo Allora Andare di questo in realtà Perché dobbiamo far riscendere il più possibile Probabilmente Non importa quanto ci rimettiamo Ma dobbiamo Tirare giù molto E comunque non riusciremo a portare sotto quello Aia Meno 49, meno 45 Non ce la facciamo Dobbiamo far perdere almeno altri mille Tipo No, no Non riusciamo Ci stanno toccando Più 5 Ma perdiamo manpower Oppure Ci torna gente Non abbiamo di Fuggiti Andiamo di questa Non ce la facciamo Non ce la facciamo Non ce la facciamo Dovremmo ancora dimezzarli Ma non ce la si fa Ok Dai Meno 68 Buono Meno 53 Niente Meno 146 Mareo Mareo Guardate quanto cavolo Ci abbiamo rimesso Metterei più morale Va bene Ritirati quindi ci riattaccheranno Verosimilmente Ne abbiamo preso 800 E in realtà di più Erano 4000 tipo Ah però abbiamo trovato Un loot box Allora 25 denari, 6 schiavi, 12 razioni E Un loot box con 212 è buono E con del good salvage Quindi dai Non così male Quanto costa? 10 tizi Questo Non costa tizi Questo ne costa 5 La tanneri Outpost management Ah si lo vediamo da qua Allora questo richiede No allora Qua abbiamo bisogno di una Iron e una tanneri E a noi serve questo L'infermeria dov'è che è? Ah ma no ce l'abbiamo già Ok potevano già curare la gente Però dobbiamo poi fare Dispensary Qual è il dispensary? Non lo so Ah no ok Questo è il dispensary appunto Ok Quelli che ti ci possono essere solo curati qua Allora perché non l'abbiamo fatto prima? Siamo stupidi Ci chiede due tanneri Ci chiede un number meal Questo ci chiede Un tanneri E un iron mine Ma io vorrei andare su questo Per cui ci serve Una lumberie E due tanneri Ah prendiamo la tanneri allora Il settore come il settore Non è ancora pacificato Che vuol dire Ah ci sono dei piccoli Di cinghiole Sì Prendiamo questo e andiamocene Scusate Ah c'è qua la missione Classification Mountain Vollage Ah dobbiamo parlare con il tizio Va bene Dobbiamo parlare con Primus Pilus Allora aspetta No Parti management Tizio Non Lo lascio là Devo spendere tutte queste medicine Lasciamolo là Va allora Outpost management Qua possiamo lasciare No Outpost management Dispensary Il tizio che è malato Vai 36 ore Benissimo Parliamo con tizio Beh schiavi un pochettino ne abbiamo Per fortuna adesso Oh no Non possiamo farne un evento olimpico Non abbiamo un trofeo legittimo Possiamo farlo Ah ok Allora prendiamo quel trofeo Tutto Ok Ok Va bene Come il morale Va bene Come immaginavamo in realtà Quindi dobbiamo andare a rubare La cosa delle olimpiadi Cosa che hai detto? Ah vabbè Si vuole farmi fare il bagno Ma non Non voglio Non ora Non mi sembrava urgente Dov'è che dobbiamo andare a Qua Abbiamo scoperto un region mission Ma possiamo prendere Scusate un attimo Questa zona qua tra l'altro L'Asia minore Ma che cavolo di zona è? E tanto vuol dire Che noi possiamo andare Anche a prendere questa Per esempio Come quarta Zona della Allora Ah ok Dobbiamo scegliere Uno dei nostri Migliori Io metterei sempre Giulia E poi gli altri Dobbiamo mettere i tizi a casa Ah già Abbiamo il pelo Con il tizio Che è malato Vabbè Ci proviamo Sai perché non possiamo Farla noi Molto strano Ah ma cavolo È già molto tardi Niente Interrompiamo il video Qua Il combattimento Lo vedremo nel prossimo episodio Io vi invito Come al solito Lasciate un mi piace Iscrivetevi al canale Perché non l'ho già fatto Lasciate un commento qua sotto Ci vediamo nel prossimo episodio Ciao a tutti Buona giornata Ciao a tutti